Tirso de Molina nel 1650 scrisse un libro chiamato Il Burladar de Sevilla. Don Giovanni era il protagonista di questo libro ed era accompagnato dal suo compagno di avventura, Catalinon. Don Giovanni è un uomo falso, affascinante allo stesso tempo, ingannatore, donnaiolo, il classico uomo che definiamo macio. Don Giovanni si prese gioco di molte donne, quali Tisbea, Aminta, Isabella e molte altre. Il burlatore cerca di sfuggire più volte a vari poteri e non inganna solamente delle donne, ingannerà anche dei pastori, dei musici e cantanti, dei pescatori, guardie e non solo. Si prenderà gioco anche della schiavitù, eccetera. Il burlatore, per come si suol dire, al finale della storia verrà burlato, poiché morirà senza essersi confessato. Le sue molteplici storie, avventure, inganni e quant'altro vengono narrate nel libro, come abbiamo già detto, Il Burlatore di Sevilla. Se vorrete leggerle con noi, comprate questo libro. E entra qui ne solle la schiavitù, come abbiamo già dato da possiamo fare